Ciao a tutti ragazzi, allora c'è un'amica che chiama quell'altra amica e gli dice oh senta è il compleanno mio, andiamo a cena fuori, brava che bella idea adesso avviso mio marito, no guarda i mariti lasciamo lì in casa che quelli è zavorre io te passo a pia, guarda prima che così andiamo pure a fare l'aperitivo vabbè dai ti aspetto, allora pia la passa a pia sotto casa e vanno a fare l'aperitivo se stappano in una boccia del prosecco, stecchito, poi vanno a cena fuori allora se fanno un bel primo, stappano in una boccia del verdicchio poi vanno al secondo, decarne una boccia del rosso conero poi se fanno il tiramisù, il vinsanto, il caffè, la mazza caffè, il moncello discorre, chiacchiere, a un certo momento non la si è fatta a un certo ora certo che quando se passa il tempo insieme come passa svelto dai andiamo a casa però la rifiamo, sì sì, aspetta abbiamo una bottiglia d'acqua che così bisogna venire, pia un'altra bottiglia d'acqua, due parole allora dai andiamo a casa, pia vanno a casa, pia nella macchina a un certo momento prima, seconda, terza, una comincia quell'altra cosa c'è? Mi scappa tanto la pipi, osce, dice pure a me guarda io non ci arrivo a casa, fermamoci, ma andavo qui in mezzo alla strada dai ma qui che c'è una mura, guarda è scuro nero, questo un po' cos'è il cimitero dai fermamoci lì, non c'è nessuno, come quando eravamo fiole facciamo la pipi sotto la luna, brava, dai andavo allora pia tutte e due si mettene giù, si posge anche la mura del cimitero ah, cominciane, ah, e fanne due parole puremente stane a fare la pipi ah, c'è la sì, che bella serata, la luna piena che ci guarda guarda che spettacolo, mi pare come quando avevamo 16 anni ah, come sto bene, come me sento leggera allora in un certo momento una si deve asciugare, pia dice senti, non è che ci avresti un fazzoletto di carta, un kleenex oste, no, non ce l'ho, adesso come fanno, niente, guarda sai cosa fa io me levo le mutande, pia, si asciuga con le mutande poi queste mutande, guarda, le dedico alla meravigliosa serata le lancia, c'era una siepe, della siepe allora quell'altra, vabbè dai, pure io poi fa, oste, no, io, no, io non puoi capirai c'ho tutta una collezione di intimo intimissimi, la perlotte, ste robe abbinate no, io non mi rovino un abbinamento allora se guarda intorno, c'era una mura del cimitero vede una corona d'alloro cerca un po' di foglie cerca pia quelle un po' più morbide pia con ste foglie morbide, si asciuga e poi guarda, fra, pure io le dedico alla serata una scoriandolata de' foglie d'alloro prende e vanno a casa tutte e due vanno a casa, alla mattina dopo e il marito de' una, il marito de' quell'altra pronto, pronto, che è successo? per alle otto della mattina cos'è successo? ma mi muoie è uscita con tu muoie ieri sera mi è tornata a casa in briaga a pezzi l'ho dovuta portare a letto a braccio quando l'ho portata a letto l'ho dovuta spugliare quando l'ho spugliata era senza mutande non sarà andata quella ieri sera quell'altro gli fa a me mi dici allora la mia mi è tornata a casa in briaga a pezzi l'ho dovuta portare a letto a braccio l'ho portata a letto l'ho dovuta spugliare quando l'ho spugliata non solo era senza mutande ma in mezzo alle chiappe c'era una cucarda c'era scritto non ti dimenticheremo mai Pino, Paolo, Giovanni e tutti gli amici della palestra ciao ragazzi alla prossima